Il virus rallenta la sua corsa e si studia la seconda fase dell'emergenza. Due step, prima la riapertura delle piccole aziende e poi la mobilità delle persone. Crollato un altro ponte, questa volta ad Aulla in provincia di Massa Carrara, tra Toscana e Liguria, coinvolti due furgoni, non si segnalano vittime. Dopo una notte di trattative, nulla di fatto all'Eurogruppo sulle misure economiche d'emergenza e scontro tra Nord e Sud Europa sui Corona Bond, tavolo rinviato a domani. Papa Francesco parla della pandemia, molti si chiedono dov'è Dio in questo momento di sofferenza. La risposta è nel suo amore, con lui tutto andrà bene. 80.000 morti in tutto il mondo, stabili a Londra le condizioni del Premier Johnson. Negli Stati Uniti raggiunti 400.000 contagi, 2.000 morti in un giorno. Ma le restrizioni funzionano. Buongiorno dal Tg2, rallenta il contagio in un giorno.